Amici di WeTrading, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi andremo a vedere una breve panoramica sul Bitcoin, Stellar e Cardano. Sono tre crypto che stiamo seguendo da tempo e ci devono dare degli spunti operativi per poter entrare ed ecco che il video nasce proprio con questo scopo di andare a controllare alcuni punti. Innanzitutto voglio guardare il market cap. Come ben sapete io lo vado a analizzare spesso e voglio farvi vedere una cosa. Mettendo ad esempio il grafico a un mese, notiamo che siamo quasi sui minimi del mese di marzo, siamo sotto i minimi di febbraio e addirittura, anzi no, febbraio no, scusate, siamo quasi sotto i minimi di febbraio e quindi questo rimane un punto interessante, il 300, circa 310, anche 280 siamo arrivati ecco a febbraio come miliardi di dollari di capitalizzazione ed è un punto chiave importante. prima di questi minimi ricordo 355 e 347 che sono degli elementi assolutamente da non superare perché altrimenti qui andrebbero a fare un'altra gamma di ribasso molto forte. Questa è la capitalizzazione compresa di bitcoin mentre potremmo prendere anche la capitalizzazione senza bitcoin dove si può vedere un movimento molto simile quindi minimo sempre febbraio e 3 punti di appena rialzo nel mese di marzo. Quindi sia col bitcoin sia senza bitcoin il market cap si comporta in modo simile vuol dire che un po' tutto è correlato anche se mancasse il bitcoin. quindi siamo su dei livelli molto molto critici. Andiamo sul bitcoin. L'ultima volta abbiamo detto che il prezzo era qui, intanto che ho fatto il video quindi un doppio minimo, se rompeva, entrava qui nell'area di sell con target 6.300. Credo che ancora questa visione sia molto valida e l'accelerazione ribassista la possiamo notare sotto la cumo se ci sarà una chiusura sotto questa cumo. Quindi oggi o domani, quindi siamo proprio al limite. Se invece la cumo riuscirà a tenere posizione è probabile che continueremo questa fase di lateralità. Il rialzo lo valuterei solo sopra la cumo, quindi siamo veramente in un punto molto molto critico. Da notare anche la ciclo span che prima si trovava sopra i prezzi e adesso ha attraversato proprio i prezzi. Quindi altro punto di debolezza di questa cripto. Passiamo a Stellar. L'ho analizzata diversi giorni fa. Andiamo a riprenderla perché è anche questa molto importante per poterla studiare. Allora, prendiamo questa calcolata da Binance. Anzi no, andiamo a prendere Stellar, la stessa che avevo, eccola qui, è visualizzata tempo fa. Prendiamo il grafico, sempre daily. Che cosa abbiamo? Abbiamo un movimento di lateralità che crea quasi un triangolo. Ecco, questo elemento potremmo adesso spostarlo in questo modo. E quest'altro potremmo dire che forma o sta per formare un triangolo. Un elemento di continuazione, il triangolo è una figura di continuazione, se verrà rotto al rialzo. Contemporaneamente quindi vedremo anche i prezzi sopra la Kijl, quindi altro elemento di forza. Se invece i prezzi andranno sotto questa base, che è intorno ai 0,26, ci potrebbe essere un nuovo allungo, intorno ai 0,16, per poi passare anche a 0,11. Quindi stiamo molto attenti perché Stellar si trova in un punto molto, molto critico. Se dovesse il market cap perdere di forza, Stellar potrebbe subito indebolirsi e accelerare al ribasso. Altro punto che ho analizzato in passato era Cardano. Vediamo se è qui molto vicino, diciamo, nello storico, altrimenti la riprendiamo dal grafico. Niente. Allora, Cardano, quindi codice ADA, Cardano dollar, eccolo qui. Abbiamo una formazione di ribasso che supera i minimi del 2018 e quindi supera addirittura al ribasso le quotazioni di dicembre. Ciò vuol dire che la correzione su Cardano è molto più forte, è stata fino adesso molto più forte rispetto a dei big come il Bitcoin o stesso anche Stellar. Abbiamo un movimento di ribasso che non ci dà speranza di rialzo attuale perché la CQSPAN è ben salda sotto i prezzi e sia Kinshul che Tentan trattengono le quotazioni. Ieri c'era stato un tentativo di ribasso riportato in basso. In realtà questo tentativo di ribasso era molto simile anche ad altri strumenti sottostanti, cioè altri crypto. E quindi in generale possiamo dire che c'è molta molta debolezza su questi strumenti. Bene, quindi volevo fare semplicemente un repilogo su questi tre strumenti. Spero che sia stato di vostro gradimento, mi piacerebbe vedere qualche commento, qualche condivisione del video o mi piace in modo tale da sapere anche se per i prossimi video posso darvi qualche altra informazione utile o meno. Grazie a tutti e buon trading!